riprese d'esilienza. Avverto la pubblicità dei lavori della salute sarà assicurata anche mediante la seconda azione stenografica e la trasmissione attraverso la web tv della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno le crea l'audizione del Ministro degli Affari europei, il Sud, le politiche di questione PNR e l'affreddito nell'ambito, come ho già detto prima, del disegno di legge Camera 1752. Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, invece i rappresentanti di ogni gruppo a comunicare alla Presidenza prima della conclusione del Ministro, i nominativi dei deputati del proprio gruppo che intendano intervenire. Do la parola al Ministro Raffaele Fitto, prego. Sì, grazie Presidente. Parto dalla valutazione che è anche in prosecuzione del dibattito di prima modo questa mattina sul fatto che, alla luce del lavoro svolto nei mesi scorsi e in modo particolare della revisione del piano, il decreto che abbiamo predisposto e presentato è frutto di un lavoro relativo alla fase di attuazione della revisione e quindi indica in modo molto chiaro quelli che sono i punti centrali della revisione che abbiamo messo in campo e anche una fase di semplificazione e accelerazione della spesa rispetto a diversi ambiti. È un lavoro fatto di intesa con tutti i ministeri interessati, anche in un confronto con le parti sociali, le organizzazioni di categoria, le regioni, le province, i comuni. Questo non vuol dire, come spesso ascolto questo, non vuol dire che nel confronto si prenda atto di quello che ci viene detto e diventa una parte integrante del provvedimento. Vuol dire che ci siamo confrontati, poi esistono anche su alcune questioni delle opinioni differenti e delle scelte diverse rispetto al merito, ma la garanzia del confronto non può essere la mantenimento o la presa d'atto di ciò che viene indicato all'interno del provvedimento. Lo dico perché in modo particolare su questo decreto c'è stato un doppio lavoro con gli interlocutori delle parti sociali e delle organizzazioni di categoria che ha visto una prima cabina di regia nella quale abbiamo illustrato gli obiettivi e una seconda parte nella quale abbiamo ottenuto dei tavoli tecnici tra la struttura del PNRR e le singole realtà delle parti sociali e delle organizzazioni di categoria. Questo lo voglio sottolineare perché rappresenta una realtà molto positiva del confronto che abbiamo messo in atto. Questo decreto parte da un elemento, anche qui voglio fare una considerazione di chiarimento. Noi non copriamo tutti gli interventi perché abbiamo deciso di spostare dal PNRR interventi per scelta, noi abbiamo revisionato il PNRR, lo ribadisco per l'ennesima volta e lo ripeterò per tutto il tempo che sarà necessario ripeterlo, perché quegli interventi non erano rendi contabili all'interno del PNRR. Faccio un esempio esplicito che è quello dei 6 miliardi di euro che è oggetto spesso di richiami che pure sono ritornati nella loro finanziamento originale e quindi nell'ambito della previsione di finanziamento del bilancio e mi riferisco alle opere dei piccoli e medie opere dei comuni per sottolineare che in quei 6 miliardi un miliardo di interventi erano per la viabilità. Ora è noto a tutti che il PNRR non finanzia la viabilità, quindi un miliardo di quei 6 miliardi era per certezza assoluta non finanziabile nel PNRR, eppure era nel PNRR. Così come gli altri 5 miliardi erano per il 75% degli interventi, interventi inferiori ai 100.000 euro, alcuni interventi erano anche di 1.750-1.200 euro e basta scorrere l'elenco per individuare oltre 39.000 opere, quasi 40.000 opere inserite all'interno di quella misura e che avrebbero comportato peraltro quel tipo di intervento una difficoltà ulteriore, visto che quelle opere erano di un piano di finanziamento con risorse nazionali del 2019, quindi molto precedentemente e lontanissimi dalle regole di rendicontazione del PNRR, oltre che la complessità di molte di queste opere che oggi trovano una condivisione anche con gli interlocutori istituzionali, penso per esempio ai piani urbani integrati anziché ai progetti di rigenerazione urbana, che sono stati in parte lasciati all'interno del PNRR, laddove sono rimasti quei progetti che avevano la possibilità di rispettare i tempi previsti dal PNRR e il resto sono stati spostati trovando altra fonte di finanziamento, è il caso per esempio dei Pui, è il caso appunto dei progetti di rigenerazione urbana e potrei fare una serie di altri interventi che troverete richiamati nell'articolo 1 dove il Governo con uno sforzo notevolissimo ha creato le condizioni per rifinanziare tutti questi interventi che sono stati appunto spostati fuori dal PNRR, quindi l'articolo 1 si concentra su questo ambito ed è la parte diciamo rilevantissima del decreto. Agli articoli successivi a partire dal 2 c'è un tema molto importante, lo voglio esplicitare quello dell'articolo 2 perché è un tema relativo alla responsabilità degli enti attuatori, qui non c'è l'idea di avere una polemica nei confronti di nessuno perché l'articolo si rivolge a tutti gli enti attuatori, nessuno escluso, quindi riguarda tutti coloro i quali sono destinatari di finanziamenti del PNRR e devono rispettare per loro parte il percorso previsto dalla tempistica del PNRR per consentire complessivamente all'intero piano di rispettare quella tempistica e quindi questa norma ci aiuta anche con una spinta forte sulla modifica agli interventi da caricare nell'ambito della piattaforma Regis a ottenere quel risultato della reale fotografia della spesa e quindi della corretta implementazione del sistema di monitoraggio Regis che sono certo rappresenterà uno degli elementi più importanti anche per integrare e aggiornare la percentuale della spesa del piano nazionale di ripesa e resilienza. Nel resto del piano ci sono fatte alcune scelte molto importanti, penso all'articolo 3 nel quale estendiamo le competenze del COLAF, del Comitato Antifrode che è un'esperienza molto positiva che ha funzionato nell'ambito delle politiche di coesione, lo estendiamo al PNRR, rappresenta un modello positivo che inevitabilmente giustamente allarghiamo anche nell'ambito delle competenze al piano nazionale di ripesa e resilienza. Esistono poi una serie di altre misure, quella relativa alla riorganizzazione della struttura di missione, voglio sottolineare che la riorganizzazione della struttura di missione viene fatta a costo zero, nel senso che c'è un capitolo aggiuntivo nella revisione del PNRR che è il Repower che merita inevitabilmente una direzione generale dedicata ma non l'abbiamo fatto aumentando la spesa, l'abbiamo fatto sopprimendo e quindi spostando l'unità di missione presso il Ministero della Coesione che era finalizzata a seguire i progetti della coesione che sono stati messi fuori dal PNRR e rifinanziati e quindi conseguentemente quella unità di missione va a rafforzare la struttura di missione, quindi una riorganizzazione e potenziamento della struttura a costo zero, mi piace sottolinearlo. Poi ci sono gli articoli dei commissariamenti che sono tre voci fondamentali, il primo quello relativo ai beni confiscati che non riguarderà più il PNRR perché i beni confiscati sono usciti dal PNRR e troveranno un finanziamento all'interno di una delibera CIPES nell'ambito dell'FSC visto che peraltro il 95% di questi interventi ricadono tutti nel mezzogiorno e ci sarà un commissario a realizzare l'attuazione visto che peraltro i risultati fino ad oggi dal punto di vista della spesa sono assolutamente bassissimi ed è uno di quegli obiettivi che non avrebbero mai raggiunto i target e le milestone indicate all'interno del piano, così come un'altra misura che ha destato molta preoccupazione è quella degli insediamenti abusivi in agricoltura per la quale si individua la soluzione della nomina di un commissario per la realizzazione di questi interventi e per un'accelerazione forte su un tema molto controverso, molto discusso che ha creato molti problemi si compie la stessa scelta per quanto riguarda la nomina del commissario per l'attuazione degli interventi per i posti letto in materia universitaria. A questo ci sono poi una serie di altre norme che sono finalizzate alla semplificazione, all'accelerazione della spesa, ci sono una serie di norme settoriali che sono state appunto oggetto di un raccordo con le diverse amministrazioni centrali, voi troverete nell'ambito di diversi articoli, un richiamo specifico a quelle che sono le norme settoriali, istruzione, università e ricerca, sport, giustizia, infrastrutture ferroviare, lavoro e politiche sociali, gli investimenti, tre articoli che vanno nella direzione di intervenire e implementare molto il tema degli investimenti con delle semplificazioni, norme in materia di protezione civile, di progetti di interesse regionale, c'è l'articolo 38 che è molto importante, che è l'articolo che regola la transizione energetica, una delle misure più rilevanti e più qualificanti della revisione del piano, 6,3 miliardi di euro che rappresenta una delle misure alle quali guardiamo con la massima attenzione per poter realizzare e individuare anche degli elementi positivi in termini sia di spesa che di sostegno alla crescita economica del nostro Paese. esiste poi una serie di altri articoli che riguardano altri settori, a partire da quelli finali sulla salute, che consentono di avere una visione d'insieme di quelli che sono stati i problemi principali che sono emersi nell'esperienza di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e che ben si coniugano con quanto previsto all'interno della revisione del piano e che sicuramente rappresentano delle norme molto importanti per poter accelerare molto dal punto di vista della semplificazione rispetto alle indicazioni generali. C'è una norma pure molto importante sul fatto che i progetti che escono dal PNRR beneficiano delle norme delle regole del PNRR quindi non si rallentano ma proseguono nel percorso di attuazione di quelle misure nonostante non ne facciano più parte esattamente con lo stesso metodo e questo penso che sia un altro elemento importante che non abbassa il livello di tensione nella capacità di spesa per quanto riguarda anche i progetti che sono stati esclusi dal PNRR ma che continuano ad essere finanziati in questa direzione. Questo è un po' una illustrazione generale del piano, l'obiettivo di questo decreto come dicevo non è solamente quello di risolvere la questione dei finanziamenti, anche su questo voglio esprimere qualche considerazione perché magari si dice perché tanto tempo, perché bisognava chiudere la revisione del piano, perché era inimmaginabile porsi il problema di trovare la copertura fino a che non c'è stata l'approvazione finale da parte del Consiglio europeo l'8 dicembre della revisione del piano. È una risposta diciamo abbastanza semplice perché era inimmaginabile poter considerare i progetti che erano all'interno del PNRR che erano usciti da dover finanziare fino a quando non si è chiusa con la decisione finale la revisione del piano e in secondo luogo in tutte le circostanze, in tutte le occasioni l'approccio è sempre stato quello di dire che le procedure degli investimenti anche previsti nella uscita dal piano seguivano esattamente lo stesso iter perché il governo ha sempre manifestato in tutte le occasioni, in Parlamento, negli incontri istituzionali, in cabina di regia, ovunque l'approccio che era quello di dire questi progetti proseguono regolarmente senza alcuna difficoltà perché il governo si è impegnato a finanziarli così come accade con l'articolo 1 perché non solo per una scelta ma perché era impossibile fare diversamente perché tutti questi progetti anche se in nettissimo ritardo rispetto ai tempi del PNRR comunque avevano assunto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti quindi comunque bisognava individuare delle soluzioni a copertura degli stessi per queste ragioni. Quindi questa è la sintesi dei punti più importanti all'interno di questo decreto. Chiaramente io non vado oltre anche perché abbiamo già avuto oggi una lunga discussione nel merito, preferisco fermarmi qui Presidente e rimettermi poi alle considerazioni frutto del dibattito e delle domande dei componenti della Commissione, grazie. Grazie a lei Ministro, aveva chiesto la parola all'Onorevole dell'Olio, Onorevole dell'Olio, Onorevole dell'Olio, aveva chiesto la parola. Grazie Presidente, grazie Ministro, c'erano alcune domande, cercherò di essere quanto più rapido possibile per non tagliare il tempo agli altri. Allora in primis c'è una questione della cessione di pago PA, quello sull'articolo 20. Allora la domanda qui è, c'è la motivazione quindi nell'articolo anche un po' per ricordare a tutti che c'è la possibilità di cessione all'Istituto Poligrafico di Zecchia dello Stato per il 51% apposte per il 49%. Ora quello che volevamo capire è la reale motivazione alle spalle di queste ipotesi di cessione anche tenendo conto del fatto che poste il 27 di questo mese il Ministro Giorgetti andrà in Senato a ragionare sulle motivazioni dell'accessione del 30% di poste, il problema qual è? Che con l'accessione del 30% di poste più l'altro 35% che è già presente sul mercato, alla fine della fiera pago PA sarà per un 35% effettiva del totale del suo valore, della sua quota azionaria, della quota capitale in mano al mercato, altri soggetti con una dotazione di dati sensibili, di dati importanti che probabilmente potrebbe essere un po' troppo delicato da lasciare delle mani del mercato. Quindi volevamo capire la reale motivazione al di là dell'aspetto economico perché credo che ci siano tante altre società dello Stato che possano essere cedute per far cassa, ammesso e non concesso che sia corretto cedere per far cassa semplicemente e non invece tenere dei soggetti nell'ambito del perimetro statale che invece possano essere vantaggiosi per uno sviluppo. Quindi questa è la prima domanda. La seconda, quella relativamente al contratto maggiormente applicato che credo che sia una cosa che abbia sentito già dire tante volte in questi giorni. In questi giorni in tutti gli auditi, praticamente tutti gli auditi che hanno parlato di questo argomento, forse l'eccezione della CISL, sono stati molto critici sulla questione del contratto maggiormente applicato perché il problema è che poi dopo si estende non solo banalmente al contratto maggiormente applicato ma anche nel settore e addirittura per la zona. A parte il fatto che non è chiaro quale sia la zona perché la zona potrebbe essere da pochi chilometri quadrati a una regione e quindi qua c'è un problema. Ma poi anche che fa ricordare, fa rientrare il concetto quello di gabbie salariali che se vogliamo è stato anche messo nel disegno di legge sul salario minimo che è diventata una legge delega svuotata dalla formulazione iniziale delle opposizioni e portata in maggioranza. Quindi chi altro può definire qual è il contratto maggiormente applicato? Non esiste un elenco che dica quali sono i contratti maggiormente applicati. Comprendo anche che il contratto maggiormente rappresentativo è una roba sindacale, della triade sindacale, della confindustria, insomma è una questione già più circoscritta e diciamo prioritaria quindi posso comprendere che ci sia questo problema. Però fin quando non ci sarà una legge sulla rappresentanza sindacale forse il contratto maggiormente rappresentativo è più valido per una posizione del genere rispetto al contratto maggiormente applicato. Quindi volevamo capire il suo parere in merito se ritiene che questa posizione possa essere modificabile e in caso negativo per quale motivo si ritiene davvero non sia modificabile. Terzo punto è la questione spesa del 40% a sud. Come sa il monitoraggio è importante, senza dati non si fa nulla, l'ho detto anche nell'audizione, c'è il detto inglese garbage in, garbage out e quindi praticamente nel momento in cui non abbiamo una serie di dati diventa complesso anche gestire e sappiamo che c'è una, oggi è stata approvata nella risoluzione, nelle risoluzioni l'ho sentita mentre le diceva che venivano modificate quindi alcune riformulazioni assicurare la piena funzionalità, la piattaforma Regis eccetera eccetera, però nella realtà siamo andati avanti più anni e la piattaforma Regis è arretrata, Italia Romani il sito è praticamente arretrato. Nel PNRR iniziale c'era una media nazionale per quel 40%, con il DL 77 del 2021 si era esteso a tutto il piano quindi l'obbligo di una relazione periodica che però credo che l'ultima sia di settembre 2022 con dati di giugno 2022. Quindi non c'è una garanzia che venga rispettato quel 40% anche avvale tutte le modifiche intervenute per cui va capito se si riuscirà a raggiungere quindi volevamo capire la sua assicurazione in merito e che a che strumenti si possa assicurare questo. Anche perché quella spesa, la spesa che era di 40 miliardi circa a fronte di quei circa 100 miliardi ottenuti finora, adesso in linea, prima non lo era, adesso in linea con la rimodulazione e quindi poi c'è la preoccupazione che ci si crei quel collo di bottiglia verso la fine. Il quarto punto ANAC, le norme che lei ha detto prima che usciranno ha detto ci sono tutti i beni confiscati che sono dal perimetro del PNRR, ci sono tutta una serie di progetti che vanno fuori e che seguiranno le regole del PNRR. Ecco ANAC era preoccupata da questo punto di vista e anche noi perché diceva nel momento in cui si va il PNRR si va in deroga al codice dei contatti pubblici, a questo punto forse sarebbe opportuno cercare di lasciare questa deroga solo per quei progetti che sono già iniziati e io credo e immagino che ci siano progetti che non siano iniziati fra quelli che sono andati fuori, in tal caso quelli forse proprio per una questione di controllo anticorruzione sarebbe il caso di lasciarli all'interno. Chiudo semplicemente con un invito, quando ho parlato dei beni confiscati ora c'è un commissario per gestire tutta la spesa, fra gli auditi hanno citato il fatto che ci sono 254 progetti ed erano un po' preoccupati sulla questione delle risorse applicate al commissario, cioè dividendo quei progetti per le risorse assegnate parlavano di circa un soggetto che debba seguire 18 comuni che è una cosa un po' particolare. Ora la centralizzazione va bene, anzi figuriamoci va un po' contro l'autonomia differenziata ma a parte questo, il problema è che deve funzionare il tutto. Ecco vorremmo capire come pensa che questa gestione commissariale vada davvero a permettere di poter gestire questa situazione dei beni confiscati. Grazie. Grazie a lei, ho chiesto la parola all'onorevole Guerra, prego. Grazie Presidente, grazie Ministro. Allora io le farò diverse domande ma ce n'è una a cui mi deve assolutamente rispondere perché abbiamo avuto risposte diverse da lei, dalle regioni, dagli altri auditi e bisogna che usciamo con la chiarezza su questo punto. Ed è la questione del finanziamento dei progetti ospedali sicuri della sanità per le regioni. Allora io le dico quello che ho capito però questo è un po' in contrasto con quello che lei ci ha detto stamattina e quindi la pregherei davvero se possiamo arrivare a un punto di chiarezza che farebbe bene a tutti perché le regioni dicono che c'è stato un taglio di un miliardo e due. Lei dice che non ci sono stati tagli. Allora il problema è che abbiamo due fonti di finanziamento, uno è che è l'articolo 20 e l'altro invece che è quello legato al PNC, stiamo parlando di questo ok? Dal PNC sono stati tolti un miliardo e due su due voci, bene ci siamo capiti. Questo miliardo e due, il miliardo e due è stato tolto, non è finito di nuovo l'articolo 20, l'articolo 20 è rimasto con il suo proprio finanziamento, quindi un miliardo e due mancano all'appello. E questo noi lo chiamiamo taglio, lei può chiamarle in un altro modo di finanziamento, come ne pare, però vorrei una prima conferma. Quello che invece succede è che lei ha detto, ma poi le chiedo proprio davvero, voglio essere sicura di arrivare fuori da qua avendo capito, l'ex articolo 20 ha o non ha, vedremo, capienza sufficiente per fare tutto quello che c'è da fare su questo tema e quindi vengono rifinanziati lì i progetti non rifinanziati, ma rispostati lì perché il finanziamento che c'è già è considerato sufficiente, non perché vengano aggiunti finanziamenti sull'articolo 20. Quindi manca un miliardo e due, ma bisogna andare a capire se le regioni con quello che hanno sull'ex articolo 20 riescono a fare abbastanza rispetto agli obiettivi che si erano dati. Ora le regioni rilevano due fattori, uno che intanto manca un miliardo e due e che loro li avrebbero spesi tutti quanti, sia quelli di qua che quelli di là, ma soprattutto che per alcune di loro, e lei stessa lo ha detto, c'è un problema di capienza perché quelle risorse che avevano ex articolo 20 in ogni caso le hanno esaurite o programmate già in modo definitivo e che in secondo luogo non sono disponibili con le stesse modalità e quindi c'è comunque una modalità amministrativa di tipo diverso. Però il problema più serio, da quello che ho capito, per quello che ci viene detto dai nostri interlocutori, è proprio il taglio di risorse che invece sarebbero necessarie. Questo è il primo punto. Secondo punto che le volevo chiedere riguarda l'utilizzo del finanziamento dei vari progetti della nuova riprogrammazione PNRR-PNC ricorrendo anche a fondi dell'FSC, sia della programmazione precedente che di quella attuale, per 5 miliardi e qualcosa. Allora, da quello che avevamo capito, questo era una specie di prestito, soldi che vengono presi ma restituiti. Però quello che abbiamo appreso poco fa nell'audizione dell'ufficio parlamentare di bilancio è che in realtà la restituzione è prevista come impegno morale, però al momento non c'è nessuna certezza che dalle economie, dalla rimodulazione future del PNC, emergano questi 5 miliardi. E questo è un problema serio ovviamente, perché anche in questo caso noi avremmo risorse che se non vengono in un qualche modo, che non riemergono, ma non abbiamo nessuna indicazione precisa, contabile. Io sto facendo problemi contabili, Ministro, dopo poi faccio le valutazioni quando sono sicura di aver chiaro il quadro contabile, non abbiamo nessuna garanzia che emergano queste economie o rimodulazioni e anche questi, io comunque nell'aggregato al momento li chiamo tagli, cioè 5 milioni che mancano fra l'insieme dei vari fondi che sono in gioco, sono tanti e complesso anche per noi ricostruirli, mancano. E qui si pone allora il problema che già il collega dell'Olio proponeva e cioè l'FSC, come sappiamo, ha una destinazione 80-20, sud e non sud. E quindi questi 5 miliardi che non si sa se verranno restituiti, sono 5 miliardi sottratti all'equilibrio, chiamiamolo così. E questo è un problema che le pongo e lo leggo a un altro problema generale che abbiamo sul bilancio temporaneo da poter dare del PNC NRR che riguarda le tre trasversalità. Sulla trasversalità sud, che la chiamo così per semplificare, che non è 20-80 ma è 40-60, c'è un problema serissimo a cui la richiamo a una sua precisa responsabilità Ministro, cioè c'è un obbligo di rendicondizione semestrale. Ora è un anno e tre mesi che è passato da un anno e sei mesi, un anno e mezzo, faccio prima di dire così, cioè da quando c'è il nuovo governo, che noi non abbiamo più un dato. Ora questo non è possibile. Noi abbiamo veramente difficoltà a compiere il nostro compito perché i dati non arrivano in modo puntuale e non arrivano in modo completo. Cioè è impossibile che tutti i soggetti più tecnicamente attrezzati del nostro Paese in questo momento non riescano a ricostruire il quadro preciso di che cosa è finanziato, come e di che cosa non è finanziato. Non è possibile. È veramente questa è una cosa che è molto grave e su cui vorrei da lei un impegno. Non è che soltanto un'ammissione di responsabilità ma soprattutto un impegno a rimediare in tempi molto brevi. Purtroppo sarebbe stato necessario anche per poter svolgere con cura questo compito relativo al decreto 19 ma non c'è possibile perché i tempi non ci saranno. La trasversalità però non è solo nord e sud. Ci sono anche le trasversalità che riguardano genere e giovani. Anche su questo totale assenza di informazione eppure si tratta di trasversalità che vanno monitorate. C'è un'unità di emissione magari non si chiama così apposita che doveva monitorare queste finalità trasversali importantissime. Non sappiamo niente. Sappiamo solo che per esempio per quanto riguarda quella di genere e anche quella dei giovani effettivamente si può tranquillamente fare i progetti senza rispettare l'obbligo dell'assunzione del 30% che sappiamo invece era stato posto appunto a tutela di questa trasversalità. Un altro punto riguarda una cosa che ci è stata sollevata nelle audizioni e su cui la interrogo anche per la sua responsabilità quanto Ministro della Coesione. Cioè noi abbiamo il credito di imposta per la ZES del Sud che è l'elemento fondamentale di sostegno che è stato individuato come sappiamo anche con qualche problematicità perché l'impegno era da una parte e poi i soldi sono arrivati dopo ma adesso abbiamo il quadro. Poi nello stesso tempo e giustamente li potrei fare altre critiche ma non è. Io adesso voglio capire poi dopo faremo le critiche. Poi parte il progetto 5.0. Ora sono due strumenti di sostegno di investimento che hanno due finalità diverse per usare i termini usati da Confindustria quindi un soggetto che insomma non è esattamente quello che è la più affinità con me. Dice il 5.0 è un intervento di sostegno di investimenti di tipo generale. Credito Sud è ovviamente selettivo, ha una selettività molto precisa. Non è un credito Sud generale, è un credito sulla ZES. Insomma voglio dire perché questi due crediti sono incompatibili? Questa è la domanda. Poi vorrei tornare su un punto che riguarda il tema della sicurezza sul lavoro. Ora capisco che non è la sua diretta competenza ma non è neanche la nostra diretta competenza. La vostra responsabilità, non sua ministro, ma la vostra responsabilità di governo è quella di aver messo dentro questo decreto delle cose che dovevano essere messe in provvedimenti diversi e l'avevamo detto per tempo, il tema della sicurezza sul lavoro è troppo importante nel nostro paese. Nell'ultimo 24 ore sono morte altre tre persone e noi volevamo un provvedimento dedicato, un provvedimento su cui eravamo disposti a lavorare insieme, opposizioni con la maggioranza, perché sappiamo che non è un'emergenza che dipende da voi purtroppo, no? Cioè purtroppo nel senso che mi piacerebbe che dipendesse da voi ma purtroppo perché se la portiamo dietro da molto tempo. Ci sono delle proposte, alcune sono vicine, altre sono lontane, era bene che si prendesse il tempo necessario, che ci si lavorasse insieme, che la commissione di merito qua o al Senato o entrambe potessero lavorarci con anche maggiori competenze di quelle che possiamo spendere noi. Però siamo qua e lei è il ministro di questo decreto, quindi è a lei che mi devo rivolgere e mi rivolgo a lei per riprendere il tema che il collega Dell'Olio ha posto. Questo è un tema serissimo, cioè la domanda che viene dalle parti sociali, ma non dico dai sindacati, dalle parti sociali, quindi praticamente quasi tutte, perché tutte non le ho sentite, quindi dico quelle che ho sentito, le rappresentanze datoriali, è la stessa. E cioè l'applicazione dello stesso contratto nel caso di appalti, ovviamente in ragione all'oggetto dell'appalto, che è quello dei contratti siglati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Questa è una richiesta fondamentale per la sicurezza, perché l'abbiamo visto anche nel tragico esempio dell'incidente, chiamiamolo così, di Firenze, ma lo vediamo tutti i giorni, è negli appalti che succedono il numero superiore di incidenti, perché negli appalti molto spesso si ricerca l'abbassamento del costo del lavoro e l'aggiramento delle norme di formazione sulla sicurezza e sulla salute. Allora, questo è un problema troppo serio per trattarlo come è stato trattato. E come è stato trattato? Il riferimento a contratti diffusamente applicati, che prima di tutto genererà un sacco di contenzioso, perché non è un concetto che abbia una consolidata applicazione come ce l'ha invece in giurisprudenza, il concetto di comparativamente più rappresentativo, ancorché non sia stato mai normato. In secondo luogo, perché avete fatto riferimento al trattamento esclusivamente economico, come se il tema della formazione per prevenire gli incidenti sul lavoro non fosse un tema invece della parte normativa dei contratti. Ora, queste due lacune sono troppo grosse, le hanno dette assolutamente tutti. Io le chiedo, Ministro, non tanto una risposta se lei non ritiene la materia delle sue competenze, però un'attenzione a riportare nella sede adeguata questo grido di dolore, questo appello che è venuto assolutamente da tutti gli auditi, tranne appunto uno o due, come ricordava il collega. Altre problematiche importantissime riguardano la patente a punti. Non voglio farla lunga, anche perché capisco che non è l'interlocutore, forse più, insomma, che ha questa responsabilità. Ecco, poi sulle sue competenze non metto lingua. Le chiedo questo, ma è possibile che se io faccio uno strumento di patente a punti, uno perde dei punti perché ad esempio non ha messo le paratie per evitare che i suoi operai cadano giù dalle impalcature, gli tolgo dei punti, ma gli ridò la patente anche se non rimette quelle paratie, purché faccia un corso di formazione, possibilmente online, come sappiamo che viene fatto, in cui i punti si prendono anche accendendo il computer, andando a leggere un libro, tornando dieci minuti dopo e provando a rispondere alle domande. Cioè, io credo che ci siano delle, faccio questo esempio per dire che ci sono delle cose che riflettono un lavoro fatto in fretta e il rammarico di non aver avuto il tempo per poterci riflettere insieme si traduce in una domanda esplicita. Consideriamo attentamente, con il tempo dovuto e l'attenzione dovuto, gli emendamenti, che è l'unico strumento di cui disponiamo, che verranno presentati anche dalle opposizioni perché insieme probabilmente capiremo un po' di più i problemi e troveremo qualche soluzione più adeguata. Grazie. Grazie a lei, onorevole Guerra. Chiesto di intervenire l'onorevole Cattoli. Prego. Sì, grazie Presidente. Buon pomeriggio Ministro. La ringrazio anche per, sia per la discussione di stamani, che per la prosecuzione appunto dell'approfondimento su un tema molto importante come quello del Piano Nazionale di Presa e Resilienza. Io sarò molto diretta, vorrei focalizzarmi soprattutto sulla missione della transizione verde e quindi introdurre un tema molto importante, molto strategico per il nostro Paese e che sarà determinante anche per sostenere non solo la transizione verde ma anche per permettere l'implementazione di tecnologie come quella basata sull'idrogeno che è inserita perfettamente all'interno degli impegni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E mi riferisco in modo dettagliato alla questione dell'idroelettrico. Torno sul tema perché il Governo si è preso un impegno nel mille proroghe con l'approvazione dell'ordine del giorno a mia prima firma cercando di aprire un'interlocuzione europea sul tema dell'idroelettrico. Quindi la mia domanda è volta prettamente in questi termini. Siamo pienamente consapevoli del fatto che nessuno vuole mettere a rischio il fatto di non temperare all'obbligatorietà inserita all'interno del PNRR sull'andare a gara nell'ambito delle concessioni. Però siamo tuttavia consapevoli del fatto che l'unica obbligatorietà in termini di concessioni idroelettriche la ritroviamo proprio all'interno del PNRR italiano. Perché a livello europeo noi abbiamo di fatto una regolamentazione che non obbliga nessuno Stato ad andare a gara nell'ambito idroelettrico. Quindi ci troveremo in un contesto europeo dove di fatto tutti i paesi non vanno a gara o hanno provveduto a delle proroghe illimitate nell'ambito delle concessioni idroelettriche e di fatto chiudendo ai mercati esteri l'inserimento di altri competitors a livello loro territoriale e quindi noi di fatto sul tema delle concessioni idroelettriche soprattutto nel PNRR e soprattutto nella missione di transizione verde è determinante e fondamentale di fatto verremo penalizzati. Quindi questo da parte nostra non è voler venire meno all'impegno del PNRR è cercare di affrontare in modo pragmatico però anche urgente un tema di rimente soprattutto per lo sviluppo strategico del nostro paese e questo non lo dico io, lo dicono le relazioni come lei sicuramente sa meglio di me sia la relazione che riscontriamo nel PNIEC sia nella relazione COPASIR dove si definisce il ruolo strategico dell'ambito dell'idroelettrico per lo sviluppo della transizione verde del nostro sistema paese oltre poi ad inserirsi il tema dell'idroelettrico non solo all'interno del piano energetico ma anche dello sviluppo industriale del nostro sistema paese perché io vengo dalla regione Trentino-Ortoargi ma non solo nella mia regione ma anche in altre regioni abbiamo di fatto una partecipazione anche degli enti locali quindi dei comuni nella gestione delle concessioni idroelettriche quindi il tema è fortemente attenzionato anche dalle amministrazioni locali perché queste hanno una partecipazione diretta e quindi hanno un gettito fiscale che di fatto permette anche di far fronte a quelli che sono gli impegni e gli obblighi che hanno nei confronti dei loro censiti per portare avanti determinati servizi all'interno delle amministrazioni comunali quindi il tema delle concessioni idroelettriche è veramente importante di rimente la mia domanda quindi è se c'è la possibilità proprio in una logica veramente di confronto aperto e sincero per andare a colmare il gap che noi altrimenti avremmo e dunque una sperequazione netta nei confronti degli altri stati membri oltre a non aver garantito il principio di reciprocità a livello di Unione Europea nell'ambito dell'idroelettrico se c'è da parte sua la volontà di portare avanti appunto questo confronto aperto e sincero sul tema dell'idroelettrico con l'impegno del nostro paese comunque di ottemperare gli impegni del piano nazionale di ripresa resilienza e quindi cercare magari di valutare la possibilità di una propria fronte di questo dialogo interlocuzione all'interno dell'Unione Europea di valutare la possibilità di inserire una proroga anche solo di 12 mesi ma solamente perché sappiamo benissimo che adesso siamo alla vigilia delle elezioni europee e di fatto certe questioni anche importanti e impattanti difficilmente potranno essere affrontate e quindi per dar modo anche di avere un confronto sincero aperto cercando di andare ovviamente a garantire gli impegni presi del PNRR in termini generali sulle concessioni però cercando di ritagliare appunto una discussione a sé per l'ambito idroelettrico visto che la normativa europea di fatto non impone alcun obbligo di andare a gara grazie grazie onorevole Cattroia ha chiesto di intervenire l'onorevole Barzotti prego grazie presidente la mia domanda si collega un po' anche a quella della collega Guerra ed è relativa alla sicurezza sul lavoro ministro in Italia noi abbiamo un grosso problema un tema molto importante quello della sicurezza sul lavoro abbiamo i dati INEL che ci dicono che il costo sociale degli infortuni è pari a circa 3.1 punti percentuali del PIL e quindi circa 45 miliardi abbiamo innumerevoli e quotidiani infortuni sul lavoro nel 2023 sono stati 1.041 gli infortuni mortali e le malattie professionali sono state in aumento e a gennaio addirittura questo aumento è arrivato al 30% per quanto riguarda le denunce di infortuni sul lavoro abbiamo un più 6,8% e gli infortuni mortali il più 4,7% solitamente in aula negli interventi non mi piace dare i numeri che riguardano gli infortuni sul lavoro però in una sede così tecnica come quella che ci sta occupando oggi è chiaro che io da commissione lavoro vengo in commissione bilancio chiaramente qualche numero sono tenuta a portarlo rispetto a questo vorrei chiederle come mai in questo provvedimento di legge ci siano, si sia ritenuto quindi le motivazioni della scelta politica che ha portato a inserire questi 3, 4 articoli sulla sicurezza sul lavoro in questo provvedimento perché da un lato noi riteniamo che la materia della sicurezza debba essere affrontata nella sede competente che è quella della commissione lavoro e quindi servirebbe non soltanto un provvedimento ad hoc ma proprio un piano straordinario di prevenzione e contrasto degli infortuni sul lavoro e quindi ci chiediamo cosa abbia portato l'inserimento spot veramente spot in questo caso in questo provvedimento che per noi può avere soltanto un altro significato quindi o si tratta e si ritiene così esauriente la materia è trattata esaurientemente da questo governo in questo modo all'interno di un piano complessivo del nostro sistema paese che è quello del PNRR oppure dall'altro lato ritenete la materia della sicurezza non degna di essere trattata in un apposito provvedimento quindi io le chiedo ministro cortesemente ci dica qual è la ragione e perché il governo non ha ritenuto di dedicare un'apposita attenzione con le apposite competenze rispetto a questo tema e per quanto la collega Guerra abbia detto che lei non è il diretto interessato di questa questione ebbene io credo che lei nel momento in cui porta un provvedimento come questo che ripeto è complessivamente considerato un provvedimento che di rivoluzione per il nostro paese credo che la forma porti con sé anche un significato e quindi evidentemente per voi questa è una riforma non so complessiva di una materia così complessa come la sicurezza sul lavoro grazie grazie non ci sono sì onorevole Romano scusi grazie presidente brevemente ministro riforma fiscale e uno degli obiettivi di questo governo tra l'altro è uno degli obiettivi di riforma del piano nazionale di ripresa e resilienza ieri in sede di audizione questa commissione ha ascoltato ieri questa commissione in sede di audizione ha ascoltato il consiglio di presidenza della giustizia tributaria organismo che tra l'altro è chiamato ad affrontare una fase nuova che è relativa alla conseguenzialità della legge del 2022 che riforma la giustizia tributaria la equipara alla giustizia ordinaria e affida dei compiti importanti per dare una risposta all'elevato numero di contenziosi allo stesso tempo per essere l'elemento dirimente e che dia delle risposte concrete da un lato allo Stato impositore che deve giustamente esigere da parte dei contribuenti dall'altro a tutela dei contribuenti che devono poter pagare il giusto sono state evidenziate ovviamente delle criticità in ordine al fatto che la giustizia tributaria oggi non ha ancora messo in campo l'azione di reclutamento perché il bando deve ancora uscire sono previsti cinque concorsi per circa 900 posti e il bando relativo all'interpello per il transito dei giudici ordinari presso la giustizia tributaria è stato pressoché disertato perché soltanto 22 su 100 hanno aderito e quindi si pone un problema in ordine al reclutamento in ordine alla formazione si pone un problema anche in ordine alla organizzazione di un consiglio di presidenza che investito da queste funzioni per la prima volta non ha una organizzazione tale per poter adempiere ai suoi compiti ecco in questo quadro dare una risposta a quella che la riforma fiscale è voluta dal governo in maniera compiuta diventa complicato se non vengono accompagnate con delle misure che sono edonie a sostenere questa start up questa fase iniziale volevo capire se il governo da questo punto di vista aveva già un'idea di intervento già prevista sin da questo provvedimento grazie quindi a questo punto non ci sono altri interventi la parola al ministro per le risposte è chiaro che faccio una premessa su alcuni temi pur comprendendo la logica dei colleghi che pongono la questione ci sono alcuni temi che sono diciamo con domande assolutamente specifiche settoriali e non fosse altro che per rispetto io non è che non ce l'abbia un'idea però insomma non sarebbe il caso che aprissimo adesso un dibattito tra me che non ho alcuna delega competenza in materia di lavoro e questa commissione lo dico proprio anche per rispetto della collega dico solo che su questo tema sono state inserite una serie di norme attinenti al PNRR nei giorni in cui si predisponeva il decreto e nei giorni del drammatico incidente di Firenze la valutazione è stata può essere condivisa o non condivisa per carità io questo non sta a me dirlo io sto dando una lettura degli avvenimenti di inserire alcune norme ulteriori all'interno di questo decreto legge dopo un tavolo che c'è stato anche da parte del governo che ha incontrato le parti sociali rispetto a questo tipo di scelta ora ripeto non sta a me entrare nel merito di questo così come anche su alcune norme il tema di pago PIA le questioni che ha sollevato il collega dell'Oglio sono questioni specifiche collegate ad alcune scelze che il governo sta facendo quindi magari troveremo modo e tempo su questo eventualmente io non c'è dubbio che mi farò portatore rispetto a questi temi e ci sarà anche la parte emendativa del decreto che probabilmente può costituire anche in commissione una occasione per avere un confronto diretto rispetto a questo tema invece per quanto riguarda le questioni collegate alle deleghe di mia competenza e comunque al PNRR vorrei fare diciamo dare alcune risposte rispetto ad alcune questioni per esempio l'onore dell'Oglio partiva dal fatto che ANAC aveva espresso le perplessità sul fatto che le norme se ho ben capito io non ho ascoltato quindi proprio di interpretare le norme previste per le opere del PNRR seguissero queste opere anche fuori dal PNRR io penso che sia una norma assolita e positiva è frutto di un confronto con il lancio in modo particolare ma con tutti gli interlocutori e gli enti attuatori e ritengo che lo schema di straordinarietà su una serie di norme del PNRR possa e debba rappresentare un elemento di approfondimento anche rispetto alle altre misure di intervento perché penso che su questo ci sia bisogno di non ragionare con la logica della straordinarietà del PNRR ma l'ambizione dovrebbe essere per il nostro Paese di far sì che quella straordinarietà nella capacità di accelerare semplificare e spendere possa rappresentare una regola nella futura gestione dei fondi al di là da dove provengano e di quali siano a questo aggiungo un elemento specifico il tema dei beni confiscati che è stato citato e uno di quegli interventi che noi abbiamo spostato dal PNRR perché non per scelta perché ne abbiamo ascoltate di ogni su questo ma perché a giugno del 2023 su 300 interventi solo 5 risultavano aggiudicati quindi diciamo potrei fare numerosi esempi di questo tipo per dire che la certezza matematica di non raggiungere l'obiettivo all'interno del PNRR in buona parte anche perché progetti in essere e questo è un tema che ritorna spesso rappresenta un elemento di riflessione e di attenzione la scelta di spostarli fuori di trovare la fonte di finanziamento e di individuare una modalità di gestione con la logica del commissario non è generalizzata è finalizzata ad alcuni interventi particolari questo è uno di quelli sui quali c'è l'esigenza e la volontà anche in questo caso nonostante sia uscito dal PNRR la misura relativa ai beni confiscati di poter dare una rapidità di attuazione in una modalità che superi un modello che come dicevo ha comportato ad oggi senza quel coordinamento quella accelerazione cinque soli interventi aggiudicati a giugno del 2023 quindi diciamo questo tema diciamo possiamo anche entrare nel merito delle singole misure però troveremo spesso questo tipo di risultato che ci fa capire il perché noi siamo intervenuti sui progetti spostati dal PNRR perché rimanere nel PNRR voleva dire non mantenere un trend di spesa come è stato detto anche più volte oggi ma voleva dire con la certezza assoluta non raggiungere i risultati dei target previsti all'interno del PNRR non centrare il risultato avere il taglio della rata e quindi tutte le complicazioni con l'aggravante che l'operazione che oggi noi abbiamo messo in campo ma tornerò su questa di copertura dei progetti sull'articolo 1 sarebbe scoppiata via via nel corso dei prossimi mesi e dei prossimi anni costituendo un debito nuovo perché avremmo dovuto garantire interventi che tra sei mesi un anno un anno e mezzo due avremmo trovato senza la possibilità di lasciarli all'interno del PNRR quindi senza quell'intervento e avremmo dovuto fare per coprire la parte della rata tagliata per il non raggiungimento dell'obiettivo trovare risorse analoghe per andare a garantire quel tipo di intervento quindi diciamo l'operazione di revisione di riorganizzazione del piano è andata in questa direzione i beni confiscati mi consentono di fare questo primo diciamo esempio concreto per chiudere con l'onorevole dell'olio dico che il tema della spesa tanto è tornato anche in altri interventi lo affronto adesso l'abbiamo discusso già oggi qui non si tratta di fare una discussione rispetto alle modalità del sistema Regis nell'articolo 2 noi abbiamo previsto un intervento che va in questa direzione perché quando individuiamo le modalità di obbligo fra virgolette di accompagnamento all'obbligo di caricamento dei dati è perché io sono abbastanza certo e lo affermo che oggi ci sono una serie di progetti che sono in corso di realizzazione che non sono stati caricati sul dato Regis e sulla piattaforma Regis e quando noi vi comunichiamo i 45,3 miliardi di euro della spesa 2021-22-23 complessiva dobbiamo tener conto di questo dato così come l'ho detto oggi in aula lo ribadisco in questa circostanza è altrettanto vero che noi abbiamo nell'ambito dell'avanzamento del piano sia per il non caricamento dei progetti ma anche perché siamo in una fase nella quale abbiamo superato penso agli asili penso alle scuole per fare alcuni esempi penso a una parte dei piani urbani integrati alla rigenerazione urbana potrei fare numerosi esempi di interventi che hanno visto nel periodo che ci lasciamo alle spalle la progettazione e la gara quindi hanno partecipato alla spesa certamente non in modo rilevante adesso l'esecuzione dell'opera quindi è verosimile pensare che nel prossimo anno anno e mezzo o due noi avremo una risposta molto importante in termini di implementazione della spesa in questa direzione e questo è un altro elemento importante l'onorevole Guerra ha posto alcuni problemi parto da quello che abbiamo già affrontato in aula mi fa piacere che lei lo abbia posto perché è l'occasione anche per entrare nel merito allora partiamo da un dato i progetti inseriti nel PNRR provenivano dall'articolo 20 la quasi totalità cioè progetti in essere quindi non progetti che nascono col PNRR ma progetti che provenivano dalla copertura finanziaria dell'articolo 20 e sono stati spostati all'interno del PNRR quando noi abbiamo fatto la revisione del piano 15 miliardi e 600 milioni di euro c'erano come missione salute dopo la revisione 15 miliardi e 600 milioni ci sono c'è una modifica quindi col PNRR non è cambiato l'importo adesso arrivo al PNC sto partendo faccio un ragionamento completo perché mi ha chiesto di essere diciamo chiaro provo ad esserlo quindi questo per il PNRR nel PNRR cosa è successo è successo che abbiamo sostituito un importo di 750 milioni di euro di progetti che non erano nelle condizioni di rispettare i tempi del PNRR e sono ritornati all'interno se così possiamo dire l'articolo 20 e alla fine dirò la conclusione finale ci porta all'articolo 20 dove aver affrontato il tema del PNC perché sono tre capitoli di spesa diversi ma tutti collegati tra di loro con i progetti che vanno da una parte all'altra ma i progetti sono sempre quelli giusto per individuare il percorso in questo contesto cosa è accaduto all'interno del PNRR perché abbiamo previsto due misure di intervento una di 500 milioni di euro per la telemedicina e 250 milioni per rafforzare l'assistenza domiciliare integrata nel frattempo a fronte di quanto è accaduto nell'ambito del PNRR questi interventi come dicevo una parte sono ritornati nell'articolo 20 e noi abbiamo aggiunto con fondi autonomi sul fondo opere indifferibili 487 milioni di euro che sono andati a coprire i maggiori oneri per le gare per le quali c'era un aumento dei costi delle materie prime secondo passaggio PNC il PNC aveva oltre un miliardo e 400 milioni di risorse destinate alla misura ospedale sicuro al dicembre di quest'anno solo 9 su 55 progetti avevano raggiunto l'obiettivo previsto all'interno del PNC cosa è accaduto che un miliardo e 200 milioni sono stati tolti dal PNC e sono ritornati da dove provenivano perché non è che una novità l'articolo 20 sono ritornati da dove venivano sono rimasti una quota di oltre 200 milioni insieme ad una quota di circa 500 se non sbaglio milioni del PNRR perché queste due cifre e perché l'articolo 20 perché nell'articolo 20 sarà l'oggetto del confronto con le regioni noi abbiamo delle situazioni diversificate perché l'articolo 20 legge 67 del 1988 ha comportato a fronte di un mega finanziamento che complessivamente aveva 34 miliardi di euro ancora ad oggi ancora una serie di risorse che non sono state spese e questo ci pone una domanda è stata prevista una procedura quella dei contratti istituzionali di sviluppo per accelerare all'interno del PNRR questo utilizzo troverete in questo decreto una analoga rappresentazione di estensione di parte di queste misure rispetto all'utilizzo delle risorse anche ad articolo 20 per la logica di mettere insieme delle procedure anche per i fondi non PNRR agli interventi extra PNRR e perché faccio questo riferimento? Perché noi abbiamo una difficoltà ci sono delle regioni che hanno esaurito la loro quota di articolo 20 e quindi si troverebbero ad avere un taglio quello sì e ci sono altre regioni che invece non hanno per nulla esaurito la loro quota di articolo 20 anzi motivo per il quale l'obiettivo del governo è completata questa fase di chiarimento nei prossimi giorni insieme col ministro Schillaci andremo ad un confronto con le regioni per ricomporre questo quadro sapendo che ci sono due miliardi circa io dico anche qualcosa di più non ancora impegnati bisogna dell'articolo 20 quindi bisogna capire in quale regioni questi miliardi impattano rispetto alle regioni che hanno avuto magari il finanziamento di ospedale sicuro e che hanno la quota di articolo 20 diciamo esaurita in qualche caso coincide qualche regione che ha esaurito la propria quota di articolo 20 e che è in regola con l'ospedale sicuro quindi non può esserci chiaramente una penalizzazione nei confronti di chi ha fatto tutto bene per essere chiari per essere molto espliciti ma al tempo stesso è necessario mettere in campo un'azione che possa provare a trovare questa modalità che è alla luce di quanto previsto che rimane in parte nel PNR e nel PNC garantire su quella quota il finanziamento per quegli interventi che non hanno una cubatura per quelle regioni che non hanno più una disponibilità sull'articolo 20 e recuperare nell'ambito di 2 miliardi previsti all'interno dell'articolo 20 la copertura degli interventi che nel frattempo escono dal PNC e dal PNRR non perché lo sceglie il governo ma perché non sono in regola con la tempistica prevista e quindi di conseguenza non avendo rispettato quegli obiettivi vengono messi fuori ma con l'impegno di trovare questa garanzia questo lo dico perché l'occasione sarà utile anche ne ho parlato con il ministro Schillaci che su questo è chiaramente impegnato nel merito io intervengo soprattutto rispetto alla questione di collegamento con le diverse fonti di finanziamento per dire che nell'ambito dell'articolo 20 dopo non pochi anni per usare un eufemismo noi abbiamo circa 15 miliardi di accordi di programma sottoscritti poi ne abbiamo 8 miliardi a sottoscrivere 4,3 in istruttoria e 2,2 ancora liberi è chiaro che dobbiamo andare a fare una verifica all'interno di questo perché tra quelli che sono sottoscritti è ok quelli da sottoscrivere e quelli di istruttoria bisogna capire anche qual è il livello di avanzamento dei progetti perché diversamente rischiamo di avere un percorso di valutazione di carattere generale dove le risorse si sovrappongono le une con le altre e rischiamo di vedere gli stessi progetti che vanno da una parte all'altra e vengo al tema che vi porta la risposta sull'FSC cioè al tema dei progetti in essere perché quando oggi noi ci poniamo il problema dell'indebitamento giusto rispetto all'articolo 1 ho ascoltato entrando in sala l'ultima audizione che parlava del fatto che la domanda non l'ho ascoltata ma sarà stata posta la domanda per dire ma quanto impatta questo articolo sull'indebitamento la risposta è stata se ho capito bene di fatto no perché erano progetti in essere spieghiamo la ragione dei progetti in essere perché se no qui facciamo una discussione un po' particolare i progetti in essere erano progetti che c'erano precedentemente con la loro copertura finanziaria con la loro quantificazione sull'indebitamento che sono stati presi e spostati all'interno del PNRR e che per una parte non prevista come copertura nell'articolo 1 ritornano da dove venivano e il tema degli ospedali sicuri e degli interventi in materia di articolo 20 di sanità ritornano nella fonte originaria di loro finanziamento questo lo dico perché mi consente anche e secondo me sarà necessario la prossima relazione ve lo garantisco che ci sarà un approfondimento molto utile su questo perché è un tema che non è facile il toro da prendere per le corna però più o meno ci siamo stiamo arrivando per avere proprio la chiusura e quindi un quadro oggettivo con una fotografia precisa delle varie questioni perché se no rischiamo qui di fare tra di noi delle discussioni alle quali mancano degli elementi di base che devono invece caratterizzare questa discussione e il riferimento all'FSC perché dobbiamo dire la domanda è stata 5 miliardi vanno a coprire sono utilizzati all'FSC per coprire questi progetti che succede ecco allora anche qui c'è da fare un ragionamento l'FSC l'FSC è stato utilizzato per 15,6 miliardi di euro al momento dell'avvio del PNRR come fonte di finanziamento in competenza per l'intero piano quindi il primo taglio importante che si è spalmato in tutta Italia prelevandolo dall'FSC è quello 15,6 cosa è accaduto nel periodo 2014-2020 sull'FSC una serie di tagli il principale è quello dei 6 miliardi di euro che ha finanziato il fondo opere indifferibili per tutta Italia i 6 miliardi ma che complessivamente cuba altri 15 miliardi e siamo a 30 quindi è chiaro che io sono preoccupato di questo elemento del taglio sul fondo di sviluppo e coesione e dico che la previsione che noi invece abbiamo fatto dei 5 miliardi è una previsione che ha una norma che indica nella verifica delle OGV cosa che stiamo facendo e che sta portando a dei risultati importanti il recupero di una serie di risorse che andranno a rimpinguare le FSC e quindi a ridurre gradualmente questo appostamento dei 5 miliardi che scenderà compatibilmente con il recupero delle OGV che con le regioni con le diverse amministrazioni centrali sta producendo dei risultati che cominciano ad essere sempre più consistenti quindi voglio dire il tema è molto complesso io capisco che non è facile perché in certi momenti può apparire quasi proprio difficile ritrovarsi nelle questioni che ci stiamo ponendo però siccome insomma ci stiamo provando da tempo da mesi a arrivare come detto prima a prendere il toro per le corna siamo abbastanza vicini ad avere una chiusura del cerchio che ci possa far capire fino in fondo quello che è accaduto perché è corretto anche fare una valutazione che a fronte di 122 miliardi di euro presi a debito al di là della discussione sulla quale spesso si sposta il dibattito gli interessi però c'è un tema che i 67 miliardi di progetti in essere vanno nei 122 quindi quando noi utilizziamo al 100% la quota di debito di 122 miliardi e lo facciamo noi la Grecia e la Romania e nessun altro paese penso che sia un tema di riflessione rispetto alla complessità del piano se a questo ci aggiungiamo gli elementi collegati ai progetti in essere evidentemente traiamo elementi di riflessione sui quali è indispensabile ulteriore approfondimento per avere il quadro sempre più chiaro e creare le condizioni perché il PNRR possa produrre quei risultati di cui noi oggi abbiamo necessità perché la qualità della spesa e l'accelerazione della spesa è l'elemento fondamentale quindi io non immagino un dibattito tra chi non ha interesse nell'accelerazione della spesa perché proprio perché il nostro piano nazionale di ripesa e resilienza ha 122 miliardi di euro a debito che aumentano l'indebitamento nel nostro paese la strada è obbligata sulla qualità della spesa pubblica per intercettare la crescita e per rientrare dal debito diversamente avremmo una difficoltà oggettiva come sistema del paese nel reggere l'impatto di un andamento lento della spesa e quindi tutte le misure inserite all'interno di questo decreto vanno in questa direzione e hanno l'obiettivo specifico di individuare delle soluzioni dal punto di vista della semplificazione dell'accelerazione ma anche dal punto di vista della definizione delle fonti di finanziamento e della lettura dei progetti perché il rischio è che lo stesso progetto venga letto più volte vede noi stiamo facendo oggi una riorganizzazione complessiva che è quella di mettere in campo un'azione mirata alle politiche di coesione nei prossimi giorni il governo con un decreto varerà la riforma della politica di coesione che è una novità assoluta all'interno della revisione del PNRR perché abbiamo previsto sette nuove riforme perché la coesione è un altro elemento importante dove oltre alle risorse europee c'è la quota di cofinanziamento nazionale e quella regionale è stata di capire anche in quell'ambito perché il rischio qual è che talvolta dico talvolta perché poi dovremo lavorare per avere i numeri precisi talvolta succede che lo stesso progetto rischia di trovare un doppio o un triplo finanziamento lo stesso progetto con più fonte di finanziamento io penso che sia interesse di tutti andare a capire invece che questo non ci sia che non accada perché è utile avere un quadro chiaro e allora quando il governo ha varato la riforma sulla politica di coesione che prevede gli accordi di coesione con tutte le norme previste che sono oggetto del confronto con le regioni a fianco varerà nei prossimi giorni la riforma della politica di coesione cioè delle risorse europee e insieme mette quest'azione di monitoraggio e rimessa in ordine del PNRR avremo finalmente le fonti di finanziamento chiare e magari in qualche caso la somma non fa il totale come diceva una celebrità alla quale siamo tutti affezionati e probabilmente dovremmo essere in grado di delineare di leggere meglio questi aspetti perché se no il rischio è quello di trovare delle valutazioni specifiche di volta in volta che ci allontanano dall'elemento chiaro quindi il tema dell'FSC è chiaramente un tema al quale per le ragioni che ho detto guardiamo con la massima attenzione sono d'accordo sulla priorità della questione di genere dei giovani e del sud io penso che per fare le cose fatte bene non per lanciare slogan possiamo lavorare per raccogliere questi elementi le norme e le indicazioni vanno in questa direzione si opererà una stretta perché queste percentuali vengano garantite e la prossima relazione non per rinviare ma per avere dei dati veri che si collegherà ad un avanzamento della spesa potrà e dovrà essere una relazione nella quale questo dato emergerà in modo molto chiaro perché saremo nei tempi per verificarlo e quindi eventualmente anche laddove dovesse essere necessario per operare delle correzioni che garantiscano quelle percentuali è evidente però che la differenza tra il dirlo all'inizio e il realizzarlo nel corso d'opera è notevole quindi c'è bisogno di un lavoro complesso però su questo mi sento di poter assolutamente prendere un impegno in questa direzione il tema al quale faceva riferimento sul credito di imposta è uno degli elementi che sta accompagnando questa riflessione il credito di imposta sud qui voglio fare una premessa perché torneremo in Parlamento per una verifica sullo stato di attuazione del lavoro delle otto zone economiche speciali e dell'avvio della nuova zona economica speciale perché purtroppo molte volte su questi temi si sono fatte considerazioni e valutazioni che poi non corrispondono al dato reale quindi anche lì un monitoraggio è utile e penso che Presidente le chiederò quanto prima di avere un momento di confronto sulla base di una relazione di analisi specifica per capire il livello di avanzamento della zona economica speciale e soprattutto per verificare il lavoro delle otto zone economiche speciali su quello parto da un dato si è detto che la copertura finanziaria del credito di imposta sud non sarebbe stata sufficiente perché nell'ambito della copertura finanziaria il miliardo e 800 milioni inserito in bilancio non era sufficiente a garantire perché si partiva da un dato errato che voglio sottolineare errato e correggere in questa circostanza perché si è sempre detto che la spesa per esempio del 2022 pari a un miliardo 445 milioni di euro del credito di imposta si moltiplicasse per tutte le otto regioni non è così perché la spesa del credito di imposta di un miliardo e 400 milioni è per le otto regioni già i 45 milioni di euro aggiuntivi sono il credito di imposta maggiorato previsto nelle otto varie ZES cosa ha fatto il governo nell'allargamento della zona economica speciale complessivo ha previsto in modo specifico un miliardo e 800 milioni valutando quei 45 milioni di credito maggiorato delle otto ZES moltiplicato n volte per il potenziale che può esprimere nelle otto regioni quindi la copertura c'è ora c'è bisogno di una seconda questione nell'ambito degli otto piani strategici delle otto ZES solo in un caso sono stati individuati i settori di intervento in una delle due ZES della Sicilia negli altri sette ZES non sono stati individuati i settori quindi qual è il lavoro uno degli elementi del confronto col partenariato soprattutto col mondo della piccola e media impresa dell'artigianato è stato quello relativo al tetto che inizialmente era stato previsto e poi abbiamo opportunamente tolto prima che il decreto entrasse nel Consiglio dei Ministri perché abbiamo fatto un confronto preventivo proprio in questo senso dei 40.000 euro come tetto minimo rispetto alla transizione 5.0 ai 6.300.000 l'abbiamo tolto quindi oggi avendo tolto quello dobbiamo lavorare con la predisposizione entro i prossimi due mesi del piano strategico per la ZES unico omogeneo nel confronto con tutti i territori a partire dagli otto presidenti della regione nella definizione dei settori di intervento e quindi delle peculiarità territoriali nell'ambito della ZES e nel fatto che il tetto di 200.000 euro perché la ZES unica a differenza delle otto ZES ha stabilito un tetto di 200.000 euro in basso e ha aumentato da 100 milioni a 200 milioni verso l'alto per l'attrazione di nuovi investimenti i 200.000 euro se si individuano i settori è un tema sul quale ci stiamo occupando si possono togliere si può immaginare di toglierlo come tetto se nel frattempo il tiraggio di una misura come quella della 6.3 diversa per gli ambiti dell'efficientamento energetico e di tutte le previsioni della transizione riduce l'ambito di intervento e delimita quindi ai settori di riferimento l'ambito del credo di imposta nelle otto regioni quindi è un tema in evoluzione che è ben presente nell'azione del governo e che sicuramente troverà l'occasione di confronto anche rispetto alle considerazioni che lei ha fatto e onorevole Guerra che in parte mi sento di poter condividere all'onorevole Cattoli vorrei dire che è così io sono d'accordo rispetto alle valutazioni di carattere generale partiamo da un dato noi stiamo facendo una valutazione per comparare l'Italia con gli altri paesi in questa situazione perché quello che lei dice è giusto cioè bisogna capire che succede nel resto d'Europa devo dirlo ma non lo dico per polemica per pesa d'atto è il governo non è il nostro che ha chiesto alla Commissione Europea di inserire questo tra gli obiettivi del PNRR e quindi avendolo raggiunto ed avendo avuto un pagamento della rata c'è il problema collegato al reversal cioè al rischio di richiesta di risorse indietro perché è uno degli obiettivi raggiunti per fare questo si deve lavorare per modificare la CID quindi per avere con la Commissione Europea una intesa che preveda questo il problema il governo lo ha posto già è in atto un confronto stiamo cercando di capire come poter individuare delle soluzioni non c'è dubbio che le cose che le ha detto sono assolutamente per quanto mi riguarda considerazioni di buonsenso e sono considerazioni sulle quali è necessario insistere abbiamo questo punto di partenza tra virgolette che ci pone una difficoltà nel rapporto con la Commissione Europea però abbiamo aperto un tavolo di confronto e io spero da qui a breve di poter avere una qualche risposta per poter appunto poi avere questo confronto perché è un tema assolutamente diciamo condivisibile per quanto riguarda l'onorevole Barzotti ho già risposto al tema della sicurezza del lavoro all'onorevole Romano dico che valuteremo assolutamente le questioni che sono state sollevate dal Consiglio di Giustizia Tributaria e faremo le valutazioni anche nell'ambito dell'azione di governo è un tema concreto che riguarda anche come diciamo la questione delle riforme sulla quale penso che sia indispensabile operare un'azione mirata finalizzata a dare delle risposte precise perché è chiaro che l'implementazione del piano oggi vede due priorità la spesa e le riforme perché evidentemente con tutti gli aggiustamenti le modifiche che sono state fatte si va nella direzione di dover creare le condizioni per poter avere un'accelerazione della spesa ed una implementazione e realizzazione delle riforme perché un altro approccio che rischerebbe di essere sbagliatissimo sul PNRR è quello di avere questo grande finanziamento una tantum per il nostro Paese e di riprendere a giugno del 2026 come si faceva prima senza avere i soldi del piano nazionale di ripesa e resilienza sarebbe veramente assurdo quindi dobbiamo cercare di lavorare per implementare le riforme per creare le condizioni già da oggi e sarà uno dei prossimi punti che ci dovremo porre anche dal punto di vista finanziario nell'ambito del PNRR che è quello di individuare anche il fatto di poter garantire una serie di misure previste nel PNRR dopo giugno del 2026 perché vorrei ricordare che molte misure di intervento sono previste con degli obiettivi al giugno del 2026 ma se dal 1 luglio del 2027 non c'è la copertura finanziaria noi rischiamo di aver vanificato questo sforzo quindi oggi bisogna porsi il problema a partire dalle case di comunità per esempio e quindi dal fatto che la sanità si finanzia l'intervento immobiliare ma poi si trovano le risorse anche per il personale ci si pone il problema della formazione di quel personale e anche delle attrezzature per poter arredare e far funzionare la struttura alla quale si dà questo finanziamento e così per le assunzioni a tempo determinato per la giustizia e potrei continuare per l'abbattimento dell'arretrato e potrei continuare con molti esempi per i quali ci sarà bisogno di una sessione mirata che vada in questa direzione questo decreto compie un importante passo sia sulla attuazione delle previsioni e della revisione del piano ma anche indica già alcune strade sulle quali sarà inevitabile che nei prossimi mesi ci rivedremo anche con altri elementi di implementazione e di intervento perché questo strumento non è uno strumento statico sarà inevitabilmente uno strumento flessibile in movimento la capacità di doverlo adeguare allo scenario di carattere generale che è mutevole come abbiamo fatto con questa revisione ma anche e soprattutto come ha fatto la Commissione europea perché quando noi abbiamo fatto la revisione abbiamo individuato il capitolo aggiuntivo del repower in seguito ad una decisione di un regolamento europeo l'abbiamo fatta con questa modalità perché torniamo alle questioni anche di carattere finanziario perché avendo preso al 100% le risorse a debito a differenza degli altri paesi non potevamo fare quello che altri paesi hanno fatto cioè di recuperare a debito le risorse nella fase preliminare del finanziamento di interventi strutturali come può essere il repower nei diversi paesi quindi abbiamo utilizzato questa modalità però è evidente che il tema delle riforme ed è evidente che il tema del raggiungimento di questi obiettivi è decisivo e fondamentale anche lo dico in conclusione nella spalmatura delle rate che viene vista come nella quantità delle rate che viene vista come un elemento di critica io su questo e chiudo veramente dico che un conto è predisporre un piano un conto è attuarlo realizzarlo e spenderlo fino in fondo per me diciamo l'obiettivo principale non è stato quello all'insediamento di capire alcune cose ma il mio primo pensiero è stato a giugno del 2026 dove ragionevolmente saremo noi questo è il mio auspicio magari il vostro no però ci sarà un governo l'attuale governo a guidare questa fase e avremo l'obiettivo di raggiungere questi risultati quindi giugno del 2026 vuol dire che anche nella rimodulazione delle rate questo è un valore della revisione al di là dell'aspetto finanziario perché la revisione ha consentito all'Italia di rivedere non solamente la quarta rata con delle modalità dirette e anticipatorie rispetto al resto della revisione ma tutte le rate dalla quinta alla decima andando a rivedere gli obiettivi rendendoli attuali e realizzabili e soprattutto anche ridefinendo l'attribuzione delle risorse nell'ambito delle diverse rate perché diversamente avremmo rischiato anzi avremmo avuto la certezza di non raggiungere quasi nessuno degli obiettivi che gradualmente ci sono nell'ambito delle rate successive perché molti degli obiettivi delle prime due rate soprattutto sono stati obiettivi di raggiungimento di provvedimenti e di scelte importanti per carità ma molto meno complesse di tutti gli obiettivi che dalla terza rata cresceranno di complessità gradualmente fino alla decima e quindi il riassetto complessivo del piano è andato in questa direzione grazie grazie a lei ministro quindi dichiaro conclusa anche questa audizione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti